Gambe, addome, glutei e cardio. Alterniamo cardio e tonificazione senza salti per migliorare il tono muscolare e ottimizzare il bilancio calorico settimanale. Iniziamo! Ok, iniziamo! Step touch, iniziamo subito il movimento a destra e a sinistra, attiviamo anche le braccia, iniziamo con un super riscaldamento per un super allenamento. Vamos! Mi sposto a destra e a sinistra, 3, 2, 1, cambio, spinte dietro, vai, due spinte e cambio braccio, due spinte e cambio braccio. Respiro, naso e bocca, vai, non saltare mai il riscaldamento, mi raccomando, scaldiamo bene il corpo. Esercizio successivo, discesa frontale su gamba alternata, cambio, allargo, scendo piano, piego leggermente il ginocchio da un lato e dall'altro. Siamo sempre in fase di riscaldamento, controllo il movimento, non andare troppo veloce, vai, scaldiamo bene. E respiro, 3, 2, 1, calciata ai glutei, vai, calciata dietro, respiro, la calciata ai glutei serve ad attivare bene tutta la parte bassa e poi passiamo all'esercizio successivo, torsione del tronco, respiro, 3, 2, 1, torsione del tronco, vai, senza forzare, torsione del tronco, attiviamo il tronco, respiro, non forzare il movimento, ancora, esercizio successivo, skip più rotazione in avanti, 3, 2, 1, cambio, skip con le gambe e rotazione avanti con le braccia, vai, scaldiamo bene tutto il corpo, respiro, sguardo in avanti, esercizio successivo, discesa a fianchi al ginocchio, 3, 2, 1, vai, allargo un po' le gambe, scendo piano da un lato e dall'altro, non forzare il movimento, respira, discesa sui fianchi, esercizio successivo, torsione più tocco, gomito e ginocchio alternato, 3, 2, 1, cambio, vai, torsione, gomito e ginocchio alternato, attiviamo l'addome, vai, vai, alterno, destro, sinistro, gomito e ginocchio opposti, vai, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, cambio, mobilizzazione alla colonna, vai, in arco e in curvo, in arco e in curvo, vai, attiviamo la schiena, respiro, respiro, ancora, esercizio successivo, apertura e braccia dietro, 3, 2, 1, vai, apertura e braccia dietro, apro senza forzare il movimento, con lo sguardo, seguo la mano che si sposta dietro di noi, ancora, 3, 2, 1, cambio, circonduzione delle braccia, vai, movimento indietro, movimento ampio, attiviamo le spalle, attiviamo le braccia, sguardo in avanti, vai, allargo bene e ritorniamo allo step touch, 3, 2, 1, vai, step touch, respiro, mi sposto a destra e a sinistra, attiviamo anche le braccia, vai, ci prepariamo al jumping jack molleggiato, respiro, 3, 2, 1, vai, jumping jack molleggiato, sincronizzo bene il movimento, braccia e gambe, respiro, non mi fermo, esercizio successivo, skip incrociato, ancora, 3, 2, 1, allargo le gambe, skip incrociato, vai, respirazione, controllo il movimento, salgo bene, vai, vai, ancora, ancora, 3, 2, 1, cambio, esercizio allungamento della gamba e con le braccia simulo il jumping jack, pam, 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 controllo, sincronizzo bene il movimento, gambe e braccia, 3, 2, 1, recupero attivo, rimango in movimento, iniziamo questo super workout con lo squat, squat completo, andiamo in posizione, allarghiamo le gambe, allarghiamo le punte, iniziamo subito con l'attivazione gambe e glutei, squat, vai, attivo anche le braccia, sguardo in avanti, scendo bene, respirazione, vai, vai, 15 secondi, squat completo e poi passiamo allo step touch, respiro, non mi fermo, 3, 2, 1, cambio, step touch, mi sposto a destra e a sinistra, respiro, esercizio successivo, un ginocchio su e un pugno, ci prepariamo tra 3, 2, 1, vai, pam, pam, vai, pugno opposto al ginocchio che sale, sincronizzo bene il movimento, vai, vai, vamos, ancora, reattività, 3, 2, 1, step touch, respirazione, naso, bocca, esercizio successivo a fondo indietro della gamba destra, 3, 2, 1, vai, a fondo indietro solo gamba destra, controllo il movimento, attiviamo gambe e glutei, respiro, utilizzo le braccia per migliorare l'equilibrio nell'esercizio, 3, 2, 1, ritorniamo in step touch, vai, respiro, e il nostro esercizio successivo è un ginocchio su più un pugno dall'altro lato, 3, 2, 1, vai, posizione, su, pam, pam, ginocchio, pugno, ginocchio, pugno, vai, addome contratto, sguardo in avanti, sincronizza il movimento, vai, ginocchio, pugno, 3, 2, 1, step touch, mi sposto a destra e sinistra, respiro, e ci prepariamo all'affondo indietro, ora solo della gamba sinistra, 3, 2, 1, vai, solo gamba sinistra, controllo il movimento, respiro, utilizzo le braccia per migliorare la tecnica e l'equilibrio, ginocchio sfiora il pavimento e risalgo, vai, 3, 2, 1, cambio, step touch, mi sposto a destra e a sinistra, respiro, esercizio successivo, pugni veloci frontali, 3, 2, 1, mezzo squat, addome contratto, vamos, pugni veloci, 15 secondi di pugni veloci frontali, vai, 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 addome forte, stabilizzo, ancora 3, 2, 1, step touch, respirazione, naso e bocca, esercizio successivo, squat completo, attiviamo gambe glutei, 3, 2, 1, vai, allargo bene le gambe, allargo le punte, scendo e attivo anche le braccia nel movimento, vai, respiro, ancora, ancora 3, 2, 1, step touch, mi sposto a destra e a sinistra, approfitto per respirare, esercizio successivo, pugni incrociato, 3, 2, 1, vai, pugni incrociato, destra e sinistra, mantieni la rapidità, bruciamo il calorietto, ne fichiamo, vamos, pam, 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 lavora sulle gambe, addome forte, 3, 2, 1, e step touch, mi sposto a destra e a sinistra, esercizio successivo, a fondo indietro, solo gamba destra, andiamo in posizione, 3, 2, 1, vai, solo gamba destra, utilizzo le braccia per stabilizzare, ginocchio sfiora il pavimento e risalgo, vai, mantieni il ritmo, controlla, 3, 2, 1, step touch, vai, respiro, e ci prepariamo l'esercizio successivo, skip, più step touch, respiro, 3, 2, 1, vai, skip, step touch, pam, pam, sincronizza bene e separa i due movimenti, vai, step touch, skip, step touch, skip, vai, utilizza le braccia per migliorare la coordinazione, 3, 2, 1, step touch, respiro, e ritorniamo all'affondo indietro, ora solo la gamba sinistra, vamos, respiro, 3, 2, 1, posizione, gamba sinistra, vai, controllo, equilibrio, vai, attiviamo gambe e glutei, non ti fermare, respira, 3, 2, 1, e ritorniamo in step touch, step touch, respiro, esercizio successivo, step touch, più ginocchio su, dall'altro lato, 3, 2, 1, vai, sali, ginocchio, step touch, vai, sali bene con il ginocchio, sincronizza e separa i due movimenti, step touch, ginocchio, step touch, ginocchio, 3, 2, 1, solo step touch, respiro, esercizio successivo, passo laterale su mezzo squat, 3, 2, 1, vai, mezzo squat e passo laterale, prima da un lato e poi dall'altro, vai, vai, cerco di mantenere la posizione di mezzo squat e mi sposto a destra e a sinistra, 3, 2, 1, scendiamo, plank in isometria, braccia in linea con le spalle, addome contratto, dalla posizione del plank attiviamo plank in movimento, 3, 2, 1, vai, plank in movimento, avvicino un ginocchio dopo l'altro verso il petto, mantengo la posizione di isometria, respiro, braccia in linea con le spalle, addome contratto, vai, vai, 3, 2, 1, recupero attivo, avviciniamo il tappetino e poi ritorniamo in plank sui gomiti, 3, 2, 1, vai, gambe unite, glutei contratti, mantengo il corpo in linea, i gomiti sono in linea con le spalle, respiro, testa rilassata, approfitto per respirare, non rimanere in apnea, recupero attivo, ci giriamo lentamente con la schiena a terra, addominali, isometria, ginocchio al petto, 3, 2, 1, vai, prima da un lato e poi dall'altro, piccola isometria, quando allungo e poi cambio, vamos, testa su, addome contratto, ancora, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo e ritorniamo al plank in movimento, respiro, 3, 2, 1, stabilizzo il plank e vado col movimento, gamba destra e sinistra, vai, respiro, ancora qualche secondo, non ti fermare, vai, 3, 2, 1, recupero attivo, risaliamo e ci prepariamo all'esercizio successivo, step touch, rimaniamo sempre in movimento, teniamo il cappettino vicino, respiro, 3, 2, 1, vai, step touch, mi sposto a destra e sinistra, respiro, respiro, esercizio successivo, squat più molleggio, faremo due molleggi, vai, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, cambio, allargo le gambe, squat, doppio molleggio e salgo, e salgo, vai, doppio molleggio e risalgo, controllo il molleggio, massima attivazione di gambe e glutei, vai, 3, 2, 1, e cambio, step touch, ci spostiamo a destra e sinistra, esercizio successivo, gomito ginocchio più pugno, iniziamo da un lato, 3, 2, 1, vai, posizione, gomito ginocchio e pugno, vai, incrocia, attiviamo l'addome, pam, pam, sincronizza bene il movimento, respira, 10 secondi e ritorniamo in step touch, vai, vai, ancora, 3, 2, 1, step touch, mi sposto a destra e a sinistra, ci prepariamo all'esercizio successivo, affondo indietro, questa volta alternato, sia gamba destra che sinistra, 3, 2, 1, posizione, vai, affondo indietro, sia da un lato che dall'altro, controllo il movimento, stabilizzo con le braccia, vai, ancora qualche secondo, e poi ritorniamo in step touch, vai, ancora, 3, 2, 1, step touch, vai, mi sposto a destra e a sinistra, respiro, ci prepariamo al gomito ginocchio più pugno dall'altro lato, 3, 2, 1, allargo le gambe e posizione, vai, pam, pam, incrocio e pugno, incrocio e pugno, vai, vai, sincronizzo il movimento, separo il gomito ginocchio e pugno, vai, ancora, ancora, vai, 3, 2, 1, recupero attivo, scendiamo a terra, esercizio successivo, plank ginocchio al petto, 3 secondi, andiamo in posizione, 3, 2, 1, stabilizzo, ginocchio al petto, 3 secondi di isometria e cambio lato, vai, da una parte, e poi dall'altra, schiena dritta, respirazione, isometria da un lato, e poi dall'altra, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo, schiena ben aderente a terra, esercizio successivo, bicicletta, gomito ginocchio, 3, 2, 1, vai, salgo in posizione, bicicletta, gomito ginocchio, vai, con gli occhi vai a seguire il gomito in apertura, vai, attiviamo i muscoli addominali, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo piano piano, e andiamo in posizione di quadrupedia, braccia in linea con le spalle, mani in linea con le ginocchia, mantengo bene la quadrupedia, 3, 2, 1, mobilizzazione della colonna, vai, in arco, e in curvo, vai, respiro, ancora, esercizio successivo, stretching gluteo, gamba sinistra, avanti, 3, 2, 1, vai, gamba sinistra, avanti, allungo dietro, e scendo, non forzare il movimento, mantieni la posizione senza, allungare oltre il tuo limite, respira, e poi cambiamo lato, 3, 2, 1, risalgo, l'altra gamba, avanti, scendo indietro, piano piano, controllo la discesa, e mantengo la posizione, 10 secondi, e cambiamo esercizio, 3, 2, 1, cambio, andiamo in stretch, allungo dietro, senza forzare, mantengo la posizione, ginocchio a terra, respiro, allunghiamo bene, mantieni la posizione, respira, 3, 2, 1, lentamente, cambiamo lato, dall'altra parte, allungo dietro, non forzare lo stretching, mantieni la posizione, e respira, esercizio successivo, scarico della colonna da terra, 3, 2, 1, cambio, glutei sui talloni, scendo indietro piano piano, braccia dietro, scarico le spalle e la testa, respiro, mantengo la posizione di scarico, 3, 2, 1, e risalgo piano piano, ci siamo, il tuo allenamento è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, sempre in forma con FixFit, vamos! Ciao! Grazie a tutti.